Domenica 29 novembre, ho in animo di aprire la Porta Santa della Cattedrale di Vanghi, durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione. Così Papa Francesco, all'Angelus del primo novembre, ha annunciato la sua volontà di aprire il Giubileo della Misericordia nella Repubblica Centrafricana, ultima tappa del suo viaggio in Africa, nel quale visiterà anche Kenya e Uganda. Lo ha fatto dopo gli ultimi episodi di violenza nel paese martoriato dalla guerra civile dal 2013, come segno della vicinanza della Chiesa e affinché tutti i centrafricani siano testimoni di misericordia e riconciliazione. Perché quella che affligge il paese visitato 30 anni fa da San Giovanni Paolo II non è una guerra di religione, come ci conferma Monsignor Iapalpa, vescovo di Alindao. La situazione ha connotazioni politiche e non religiose. Cristiani e musulmani hanno sempre vissuto insieme, hanno sempre avuto una buona intesa, ma quanto è successo è legato alla presa di potere da parte dei Seleka, in prevalenza musulmani, che hanno cercato di avvelenare la situazione, ma non si tratta di una guerra di religione. Per questo Papa Francesco visiterà la moschea centrale a Bangui e alla messa allo stadio è prevista la partecipazione di rappresentanti delle altre confessioni religiose. Pacificherà i cuori, darà il senso della vita al nostro popolo e la speranza che tornerà la pace e che i centrafricani possano vivere insieme. E' il frutto che ci aspettiamo dalla visita, che sarà una grazia per noi in questi momenti difficili, quando ha accettato di venirci a trovare. E' una testimonianza di vicinanza al popolo centrafricano, ma sarà nel contempo il messaggero della pace tra noi. Il primo viaggio del Papa in Africa si aprirà però il 25 novembre a Nairobi, capitale del Kenya, dove i cristiani sono il 35% della popolazione. E ad aprile centinaia di studenti cristiani sono stati uccisi nel collegio di Garissa. Anche in Kenya ci sarà un incontro interreligioso ed ecumenico. Il Papa visiterà l'Ufficio delle Nazioni Unite di Nairobi, che ospita l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo, e una bidonville nella periferia della città. Il 27 novembre il pontefice si trasferirà in Uganda, dove i cristiani sono la maggioranza, l'85%, e 22 anni dopo San Giovanni Palo II pregherà nel santuario dei martiri, quello anglicano e quello cattolico, e celebrerà la Messa per i martiri dell'Uganda, canonizzati nel 1964 dal beato Paolo VI, l'arcivescovo Dama, presidente della Conferenza Episcopale Ugandese. Quest'anno, nel 2015, tre milioni di persone si sono riunite per la celebrazione dei martiri ugandesi, che è un giorno per noi molto importante. Ecco perché abbiamo invitato il Papa a venire a celebrare il cinquantesimo di questo anniversario. Amiamo i nostri martiri, sono i nostri antenati nella fede. Personalmente, credo che l'evento favorirà un aumento della fede delle persone. Inoltre, il Papa giunge in un Paese unito. Infatti, non soltanto i cattolici aspettano di accoglierlo, ma anche le persone di altre religioni sono felici di vederlo e desiderano mostrare l'unità del Paese. La visita del Papa sarà promuovere la pace, soprattutto nell'area di Central Africa, dove c'è un paese di un paese. Durante la visita, promuoverà anche la pace, soprattutto in Africa centrale, che è attualmente in stato di guerra, e contribuirà a rafforzare anche la pace in Uganda, perché ci sono stati disordini nel nord del Paese e ci incoraggerà maggiormente a vivere in pace, in unità, amandoci reciprocamente come figli dello stesso Dio.